Buon ragazzo, secondo me hai un'attitude che sinceramente all'inizio non l'avevo visto, poi con andare avanti del tempo, anche vedendoti in discoteca, anche vedendoti che rimorchi, tutte cose, ho capito che in realtà tu ti fingi un po' così, un po' il nerd, però in realtà non lo sei. Posso essere in entrambe le cose, posso anche essere un nerd che scopa. Ma sei un nerd che scopa, però intendo, sai stare in, cioè sai leggere bene il confronto con una ragazza, capito, cioè io ti ho visto rimorchiare, non pensavo fossi in grado.